Sì, con un momento in generale c'è il caldo, non sognare o fetture, occhi e le mani non stesse, la tablina del gioco, che non so vanno, ponte campioni di aiutane. Ma quando ti hanno l'inversità di un'altra scopola, un'altra icchiai all'amato, e si è piaciuto di farlo, che si è diventato, che si è diventato. Compaiono le altre medaglie, con le due città, Grazie a tutti. 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 a tutti.